Ancora un ritrovamento di Amianto all'esterno di una scuola di Giuliano. Lastri di Eternit sono state ritrovate fuori il quinto circolo didattico di Via Pigna in zona Casacelle. Ad accorgersi della presenza del materiale nocivo il dirigente scolastico che ha provveduto ad allertare il comando della polizia municipale. Gli agenti hanno di fatti messo in sicurezza l'area poi sottoposta a sequestro. Le ditte che si occupano di rifiuti speciali provvederanno al ritiro delle lastre e allo smaltimento delle stesse. Questa di sversare Amianto nei pressi di istituti scolastici sembra una pratica abbastanza diffusa. Non è la prima volta infatti che all'esterno di istituti scolastici si ritrova Eternit sversato illecitamente. Tra gli episodi ricordiamo quello di circa un anno fa a Varcaturo e più recentemente a Marano nei pressi della scuola Amanzio. Nonostante ormai la raccolta differenziata funzioni a pieno regime da più di un anno c'è ancora chi in maniera incivile sversa rifiuti per di più pericolosi nei pressi di luoghi pubblici. Grazie. Grazie.